Taranto celebra dieci anni delle scienze del mare e lo fa al circolo ufficiali della Marina Militare in Piazza Kennedy con una schiera di relatori e quasi 200 giovani studenti del capoluogo ionico. Il convegno rientra nel progetto Terra e Mare da salvaguardare, ideato e promosso dall'Associazione Culturale Marco Motolese con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Club per l'UNESCO di Taranto. L'ammiraglio di squadra Vincenzo Montanari ha una serie di ammiragli che conducono la Marina Militare a Taranto come l'ammiraglio che decandia, l'ammiraglio che regge le scuole, insomma una serie di personaggi che danno lustro alla città attraverso la Marina Militare. E poi dobbiamo ricordare Rutteri, che è venuto a relazionare mandato dallo Stato Maggiore di Roma. Il progetto mira a sensibilizzare i ragazzi e le famiglie ma anche le istituzioni sulla necessità di celebrare e conoscere la bellezza e ricchezza del mare e soprattutto proteggerlo dalle minacce antropiche. L'obiettivo è quello di salvaguardare, proteggere e far conoscere il nostro mare ai ragazzi per poterlo amare e rispettare.